Ciao a tutti, benvenuti al consueto appuntamento mensile per quanto riguarda i costi e consumi dell'energia elettrica di casa mia, in quanto casa mia va tutta ad energia elettrica. Andiamo a vedere il mese di giugno e lo paragoniamo con quello dell'anno scorso. Come sempre faccio, nel giugno 2023 ho consumato 77 kWh e poi ho speso 20€, poi c'è il bonus sociale che prendevo l'anno scorso, quest'anno non prendo più. Comunque andiamo sempre a vedere il consumo di kWh e vediamo la differenza con quello di quest'anno. Nel giugno del 2024, quindi il mese scorso, ho consumato 53 kWh per una spesa di 31,90€. Quindi ho speso circa 25 kWh in meno nel mese di giugno dell'anno scorso e ho pagato di più perché, guardate qua come vi dico sempre nei video, da quest'anno la spesa per la materia di energia sono 18€ con 53 kWh, mentre l'anno scorso erano 12€ con 77 kWh, quindi molto meno con più kWh di consumo. Quindi da quest'anno si paga molto di più la materia di energia come vi ho fatto vedere anche in altri video. Tenete sempre conto che io ho l'impianto fotovoltaico, quindi durante il giorno consumo quello che mi prodotte l'impianto fotovoltaico. In più, dopo casa mia va tutta ad energia elettrica con lo scaldabagno elettrico per l'acqua calda e dopo il piano cottura ad elettrico e dopo tutti gli utensili normali che avete anche voi che vanno ad energia elettrica. Quindi va tutta a energia elettrica e a zero emissioni, quindi casa mia non ha il gas e i consumi d'estate sono circa questi, quindi un 30€ al mese d'estate con l'impianto fotovoltaico, senza batterie di accumulo, solo l'impianto fotovoltaico. Bene, spero di esservi stato utile anche in questo video. Ci vediamo al prossimo video con la prossima bolletta. Ciao a tutti!